Buongiorno a tutti, mi spiace non essere lì con voi oggi perché questo è un incontro molto importante per il nostro Ministero. Ci tenevo comunque a mandarvi un video messaggio per raccontarvi quali sono le nostre iniziative, le nostre idee sul gruppo che si sta formando, che è già nato da un po' di tempo, ma comunque che abbiamo il compito e l'onore di guidare insieme ad Agid. La prima cosa fondamentale è che gli RTD per noi sono una figura importante di diffusione della digitalizzazione all'interno delle pubbliche amministrazioni locali, in questo caso, che sarà molto importante che diffondiate le piattaforme abilitanti che noi oggi stiamo promuovendo a livello nazionale, quindi SPID, ANPR, Pago.pa e io sono ovviamente importantissime affinché noi riusciamo ad avere a livello nazionale un approccio comune. Ovviamente non vi lasceremo da soli in questo percorso, ma vi supporteremo sia con della formazione, con la formazione della quale voi avete assolutamente bisogno, sia guidandovi in questa trasformazione delle pubbliche amministrazioni locali, affinché la figura dell'RTD non sia una figura solo necessaria per legge, ma sia davvero una figura che faccia la differenza all'interno delle pubbliche amministrazioni. Ed è per questo motivo che dobbiamo anche riuscire a creare una forma di collaborazione tra di voi, affinché voi riusciate a scambiarvi le best practices che riuscite a portare all'interno delle vostre pubbliche amministrazioni locali e che sia anche riconosciuto il ruolo e l'importanza singola del soggetto che è riuscito a fare all'interno della sua pubblica amministrazione una trasformazione. Dovremmo definire anche insieme a voi degli obiettivi che dovrete raggiungere e aiutarvi in questo raggiungimento non solo attraverso la formazione e la nostra vicinanza, ma anche riuscendo a darvi degli incentivi legati al vostro stipendio qualora riusciate a raggiungere gli obiettivi che avete come RTD. Il lavoro è molto difficile ed è molto complesso perché la digitalizzazione è una sfida che ci siamo dati come Ministero e che non possiamo fare da soli e che dovremmo fare tutti insieme coordinandoci per riuscire a raggiungere questo grosso obiettivo comune. Io vi auguro un grosso in bocca al lupo per il progetto che dovete portare a termine e per la giornata che state per affrontare.